Amici di Fulvio e le sue ricette oggi un primo piatto siciliano semplicissimo ma godurioso serviranno pochi ingredienti basilico, pomodori maturi, pecorino siciliano e cipolla bene iniziamo subito dopo aver lavato e pulito la cipolla la tagliamo prima a fettine e poi l'andiamo a tritare in questo modo e infine usando il coltello come se fosse una mezzaluna andiamo a tritare in maniera sottile 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 la cipolla perfetto dopo aver fatto questa operazione passiamo ai pomodori facciamo un incisione sui pomodori questo servirà a poterli pelare molto molto facilmente ci aiuterà moltissimo a questo semplice passaggio poi acqua sul fuoco arriviamo al bollore mettiamo dentro i pomodori e li facciamo cuocere per un minuto nel mentre prendiamo una bacinella mettiamo dell'acqua ghiacciata adesso ci andiamo a versare dentro i pomodori lo shock termico il passaggio tra acqua calda e fredda ci aiuterà a togliere la pelle in maniera molto molto facile vedete adesso basterà soltanto un coltellino e la pelle come potete vedere andrà via che è davvero semplicissimo farlo perfetto una volta tolta la pelle a tutti i nostri pomodori non ci resta che tagliarli prima a metà e poi a ancora a metà formando quattro parti adesso col coltello andiamo a togliere la parte interna che è un po più legnosa e con l'aiuto di un cucchiaino andiamo a togliere tutti i semini presenti e puliamo bene bene il pomodoro andando a prendere solo la polpa andiamo a tagliare la polpa prima a striccioline e poi a cubettini piccolini perfetto quest'altro passaggio è fatto il nostro pomodoro è pronto allora andiamo in cottura olio extravergine d'oliva di quello buono in padella fiamma dolcissima aggiungiamo a questo punto la cipolla che abbiamo tritato precedentemente la facciamo rosolare molto molto dolcemente ma è tale che la cipolla rilasci tutti i suoi sapori i suoi profumi all'interno dell'olio anche lo spicchio d'aglio in camicia e facciamo rosolare il tutto un pizzico di peperoncino e facciamo ancora rosolare adesso è il momento di aggiungere il pomodoro e iniziamo la cottura che è molto breve insieme a delle foglioline di basilico spezzettate a mano adesso andiamo a togliere lo spicchio d'aglio in camicia aggiungiamo del sale fino andiamo a salare il nostro pomodoro e assaliamo anche l'acqua di cottura giù gli spaghetti e iniziamo la cottura della pasta nel mentre aggiungiamo anche dell'acqua di cottura nel sugo lo portiamo a bollore perché perché adesso è il momento di aggiungere gli spaghetti e andarli a mantecare gli spaghetti li dovete cuocere 3-4 minuti prima della cottura segnata al dente li andiamo a spadellare a fiamma alta aggiungendo dell'acqua di cottura se necessario spadelliamo in questo modo perché andremo a formare così una bella e buona cremina poi spegniamo la fiamma raffreddiamo la pasta per un minuto o un minuto e mezzo prima di aggiungere il pecorino in questo modo il pecorino non andrà a fare l'effetto mozzarella filante ma si andrà a sciogliere totalmente e formerà una deliziosissima cremina a base degli amidi della pasta insieme al pecorino che abbiamo aggiunto adesso non vi resta che procurarvi un bel piattone gigante e andiamo a formare un nido di pasta al centro in questo modo perfetto adesso con il mestolo versate la cremina sopra guardate che bella questa cremina che andremo a mettere sopra ogni piatto guardate è davvero molto molto invitante e lo andiamo a chiudere con una bella spolverata di pecorino siciliano e una fogliolina di basilico guardate che bellissimo questo piatto gli spaghetti alla picchio pacchio o alla carrettiera sono pronti non vi resta che gustarli ancora caldi io vi saluto picciotti alla prossima ricetta questa è una ricetta che mette tanta allegria ciao a tutti da Fulvio seguitemi nei miei canali social iscriviti al canale